TV Fil Rouge TV Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Fil Rouge TV sempre in onda in diretta sulla web tv www.filrouges.tv e sulla nostra pagina Facebook Fil Rouge TV abbiamo appena concluso con il programma di Anita Sorana di scena e adesso parliamo di giovani, del loro futuro soprattutto in questo momento che chiaramente con questa pandemia, con questa crisi con questi mille dubbi, sicuramente è più scuro di prima ho pensato, spero bene, di invitare due giovani tra l'altro un avvocato e un presidente di un'associazione dove sono in gamba per farci spiegare quali sono le possibilità oggi per evitare appunto di cercare lavoro o fortuna non sicuramente a Palermo e in Sicilia ma al nord Italia premessa penso giustissima faccio entrare i miei due ospiti cominciamo dall'avvocato Federico Nuzzo buonasera avvocato, ciao Federico ciao, buonasera a tutti intanto grazie per essere qui Consulente Resto al Sud che cosa vuol dire Consulente Resto al Sud? Allora noi abbiamo creato un team di consulenti dedicato proprio alla misura Resto al Sud Resto al Sud è una misura che durerà ancora per qualche anno è la misura più importante che in questo momento esiste per l'autoimprenditorialità al Sud e quindi noi abbiamo deciso di dedicare proprio un team specializzato tra esperti in redazione di business plan questo team oggi ha presenze in alcune province di tutto il Sud Italia e quindi noi da Palermo coordiniamo questi consulenti che rispondono all'esigenza dei nuovi imprenditori di scrivere un business plan e di partecipare alla call di Resto al Sud che come ripeto è in questo momento a livello di dotazione finanziaria a livello di opportunità complessiva per la tipologia di imprese che si possono aprire è l'opportunità certamente più importante che in questo momento c'è e che durerà ancora per qualche anno Perfetto, accanto, cioè al centro tra me e te Fabio Casamento, presidente dell'associazione Giovane Futuro Fabio, intanto grazie questa associazione si chiama Giovane Futuro per quale motivo? Allora, si chiama Giovane Futuro è un'associazione fondata, creata nel lontano 2008 cerchiamo di sfruttare tutta una serie di politiche giovanili che riguardano i giovani al fine di poterli inserire nel mondo del lavoro quindi divulghiamo i bandi esistenti nella fattispecie divulghiamo tutto ciò che possa riguardare l'inserimento del mondo del lavoro tramite autoimprenditorialità ma di questo ne parlerà abbondantemente Federico l'appogato Federico Nuzzo e soprattutto ci interessiamo già da diversi anni di tirocini entrare nel mondo del lavoro attraverso tirocini extracurriculari dare la possibilità ai giovani di inserirsi attraverso questo strumento inoltre abbiamo al momento attivo un progetto che vede coinvolti i comuni di Monreale, Bisaquino e Chiusa Sclafani un progetto finanziato dalla regione siciliana Sì, sì, ti sento bene più tardi di questo progetto Ci conviene, secondo me, cominciare subito con sfruttiamolo, ecco, nel senso appunto positivo del term Federico Sì Parliamo di Resto al Sud Prima di parlare di Resto al Sud facciamo vedere uno spot che un po' spiega che cosa si tratta e poi continuiamo Grazie a tutti Spott Semplicissimo, tra l'altro video animato che sono quelli che funzionano di più adesso perché con pochissimi secondi spiegano un po', diciamo, tutto Federico Resto al Sud Allora Una cosa che ti chiediamo è un linguaggio comune a tutti perché ci sono un sacco di persone che purtroppo poi quando vanno dagli avvocati, dai consulenti o sentono in televisione i professori si confondono Dico, noi dobbiamo avere un linguaggio comune Guarda, sono famoso per questo infatti molte persone che mi conoscono per la prima volta mi hanno detto non so se è un complimento o può essere il contrario di un complimento mi dicono non mi sarei non l'avrei detto che sei un avvocato comunque forse perché sono molto pragmatico Allora che cosa è il resto al Sud intanto bisogna partire dal punto di partenza che è la dotazione finanziaria hanno stanziato un miliardo e duecentocinquanta milioni per ora che parliamo di emergenza coronavirus si parla di miliardi di questo e di quell'altro immaginate che un miliardo e duecentocinquanta milioni è una cifra spropositata rispetto a quello che è la storia di quella che è stata la dotazione finanziaria per diciamo bandi di questo tipo quindi immaginate che ci sono tanti soldi e questo è un bando a sportello nel senso non c'è una competizione non dobbiamo presentare il progetto più bello e il progetto più bello viene finanziato e il progetto più brutto non viene finanziato noi dobbiamo presentare un progetto di autoimprenditorialità che abbia che superi la valutazione minima di ammissibilità ovviamente ci sono dei criteri che devono essere rispettati il progetto deve rispettare dei criteri deve essere un buon progetto imprenditoriale un buon progetto imprenditoriale è un progetto che può dimostrare la sua sostenibilità finanziaria nel senso un progetto che prevede appunto è un progetto imprenditoriale prevede appunto che l'imprenditore venda un prodotto un servizio e ne ricavi un prezzo e possa guadagnarci quindi è molto importante che il consulente o anche lo stesso imprenditore che si vuole cimentare scriva un progetto che sia credibile con dei dati che possano essere che possano dimostrare la validità del progetto intanto è molto importante specificare che il resto al sud è una misura molto che dà la possibilità di fare tantissime cose nel senso che è più facile dire cosa non si può fare con il resto al sud piuttosto di dire cosa si può fare con il resto al sud innanzitutto quindi si parte da questo presupposto cosa non possiamo fare con il resto al sud noi non possiamo fare un'attività imprenditoriale nel mondo dell'agricoltura possiamo fare una slide certo certo se vuoi tu la riesci a vedere giusto? a chi si rivolge? questa misura si rivolgeva prima a un'età compresa tra i 18 e i 35 anni ma ultimamente con una recente modifica è stata estesa anche fino alle persone che non hanno compiuto 46 anni alla data del primo gennaio 2019 quindi chiunque non abbia compiuto 46 anni al primo gennaio 2019 quindi sia più giovane può presentare una domanda un altro criterio soggettivo è quello di non essere titolare di impresa alla data del 21 giugno 2017 è molto importante è molto importante considerare questa data significa che chi ha impresa dopo la data allora te lo spiego subito lo spiego veramente a parole semplicissime il 21 giugno 2017 il soggetto che vuole presentare un progetto non doveva avere né la partita IVA né doveva essere amministratore di una società quindi chi ha la società da un anno lo può fare chi ha la società aperta o attivata dal 22 settembre 2017 dopo il 21 giugno 2017 può presentare la domanda quindi questi sono due criteri insormontabili non si può scappare a questi due criteri poi c'erano altri criteri che riguardano la territorialità sono criteri che possono avere o non avere un contratto a tempo indeterminato questo è un altro criterio soggettivo di ammissibilità non bisogna avere un contratto a tempo indeterminato vuol dire che tu puoi presentare il progetto avendo un contratto a tempo indeterminato ma in caso di approvazione dovrai rinunciare a questo contratto a tempo indeterminato perché questa scelta perché ovviamente quello che si richiede è il massimo impegno dell'imprenditore è una scelta di vita quella di fare l'imprenditore quello di aprire una nuova attività e bisogna concentrarsi solo su questo quindi un contratto di lavoro a tempo indeterminato è incompatibile con l'essere imprenditore esatto anche perché la scelta è o questo o quello naturalmente esatto ovviamente dico come dicevo andiamo avanti con le slide comunque c'è da dire una cosa sui criteri soggettivi effettivamente è possibile presentare la domanda da parte di chi non ha i criteri soggettivi verificati ma deve presentare questa domanda insieme ad altri due soci che abbiano i requisiti e che non siano suoi parenti quindi è possibile presentare la domanda da parte di tre soci di cui uno non ha i requisiti e due hanno i requisiti ma non sono suoi parenti domanda al contrario quali attività non possono essere finanziate ecco molto importante allora le attività che non possono essere finanziate sono l'agricoltura e il commercio all'ingrosso e al dettaglio ora siccome proprio nel linguaggio comune la parola commercio è un po' utilizzata a sproposito facciamo una precisazione ecco tornando alla premessa che ti ho fatto all'inizio siccome noi utilizziamo quasi tutti i termini sbagliati in alcune situazioni no 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 ma infatti io ti faccio una precisazione è una di quelle secondo me quindi ecco vuol dire commercio esatto allora commercio all'ingrosso e al dettaglio vuol dire tutte quelle attività in cui io prendo una cop acquisto una cosa e la rivendo senza farci nulla senza fare nessuna trasformazione senza assemblarla senza dare un valore aggiunto vero a questa a questa materia prima o a questo prodotto che ho acquistato e sto rivendendo quindi questo è il commercio cioè i negozi possiamo dire così i negozi i negozi non si possono aprire i commerci online non si possono aprire poi ovviamente la commercializzazione di un prodotto che viene prodotto dall'impresa ovviamente è ammissibile ok ma lo dobbiamo produrre esatto lo dobbiamo produrre lo dobbiamo trasformare faccio la maglietta la posso vendere esattamente questo lo puoi fare questo non è commercio di magliette questo è può essere perché ne so un laboratorio serigrafico oppure può essere proprio una vera e propria impresa nel campo della moda però dico ovviamente dico per capirlo ogni volta che dovete capire se questa impresa si può fare o non si può fare il modo più semplice anche se il modo diciamo quello voglio dire ufficiale è quello di cercare il codice ATECO ogni attività nel nostro paese viene classificata e ha un codicino per cui ogni attività che voi volete aprire ha un codicino se io voglio aprire ad esempio che ne so un ristorante è ristorazione e ha un codice se io voglio aprire un bar è bar e ha un codice se io voglio aprire ad esempio un'attività e non sono sicuro se sia commercio o non sia commercio lo cerco su google scrivo il tipo di attività scrivo ATECO se questo codice ATECO è della lettera G G come Genova vuol dire che è commercio e quindi non lo puoi fare quindi questa è diciamo la cosa più semplice che può fare chiunque Fabio eccomi facciamolo respirare un po' per la seconda parte tu con Resto a Sud hai qualche esperienza che ci vuoi raccontare ma diciamo che con Federico si è creato un bel team in quanto cerchiamo intanto di raccogliere le istanze e quindi riuscire a comprendere chi è effettivamente nelle condizioni di poter sfruttare questo bando posso dirvi tranquillamente che rispetto a tanti altri bandi di Invitalia è stato veramente molto sfruttato nel territorio basta passeggiare anche per le vie del centro a Palermo noterete sicuramente pub e altre attività che sono riusciti ad aprire grazie al Resto al Sud questo anche soprattutto ma questo ne parlerà abbondantemente l'Avvocato Nuzzo Federico dico questo anche perché comunque è un bando non dico di facile accesso ma sicuramente è ben strutturato detto questo sì esperienze ne abbiamo tante noi abbiamo avuto modo anche con la nostra associazione di divulgare e fare presente questo bando già da diverso tempo proprio a pochi mesi dall'uscita del bando stesso e continuiamo tuttora a farlo in quanto parleremo abbiamo parlato e parleremo di Resto al Sud anche all'interno di un progetto che attualmente abbiamo in atto l'Avacenato Vocanzi il progetto aggregazione 2.0 che è un progetto che fondamentalmente prevede la possibilità di cerca di favorire l'inclusione sociale e lavorativa a dei giovani giovani dei comuni di Monreale Bisaglino e Chiusa Sclato come mai questi tre comuni si è creato questa splendida partnership in collaborazione con le amministrazioni comunali dei tre territori qui è possibile vedere una prima presentazione un primo laboratorio il progetto aggregazione 2.0 prevede la creazione di laboratori stiamo facendo il progetto momentaneamente è sospeso solo ed esclusivamente perché è in atto insomma tutto quel che tutti noi sappiamo e abbiamo già realizzato dei laboratori i laboratori vengono realizzati a Monreale nel CAEP di Monreale per CAEP si intende centro di aggregazione polifunzionale di Monreale dove all'interno insomma venivano questi ragazzi residenti nei comuni di Monreale e partecipavano a questi laboratori a stavolta noi eravamo in qualche modo già in anticipo rispetto ai tempi rispetto a quello che si è venuto a creare da qualche giorno a questa parte proiettavamo questi incontri in diretta Skype nei CAEP di Visaquino e Chiusa Sclafani dove c'erano erano presenti altri ragazzi che assistevano a questi laboratori ma che cosa sono questi laboratori sono degli incontri che servono appunto per creare sinergia collaborazione tra i giovani stessi e che vertono su determinati argomenti in questi laboratori abbiamo parlato di rest al sud abbiamo parlato anche di sport di benessere fisico e continueremo a farlo perché il progetto comunque dovrebbe concludersi ad agosto probabilmente subirà uno slittamento in quanto comunque abbiamo perso più di un mese per via dell'emergenza coronavirus riprenderemo meglio di prima più forti di prima come diciamo noi ormai da parecchio tempo Federico io leggo nelle slide chiaramente mi hai fornito turismo libera protezione ti dico questo turismo ieri 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 abbiamo avuto approvato due progetti e sono proprio i progetti più tipici nel senso noi con il nostro team abbiamo avuto approvato decine di progetti non ti posso dire il numero esatto sono meno di 100 però dico sono decine di progetti ti devo dire la verità in Sicilia sud Italia spesso gran parte delle domande sono sul turismo o sulla ristorazione scusate il cane il cane il cane scusate sono sul turismo o sulla ristorazione proprio ieri abbiamo avuto approvate altre due nuove proposte una propria una pizzeria da sport è molto importante dire che ci dobbiamo adattare a questo coronavirus quindi probabilmente oggi una pizzeria da sport ha più possibilità di sopravvivere rispetto a una pizzeria che punta molto a un numero infinito di coperti ok e poi abbiamo avuto approvata anche un progetto per esempio che riguarda le strutture ricettive extraalberghiere ricordiamo anche che purtroppo quest'estate le strutture ricettive extraalberghiere subiranno sicuramente grosse perdi e ci sono state già molte cancellazioni ma credo che qualche cosa si possa recuperare con il turismo interno cioè io sono convinto che quest'estate molti siciliani sceglieranno sicuramente di fare le vacanze in Sicilia che è una terra che è stata lambita poco dal virus che potrebbe comunque garantire livelli di sicurezza maggiori abbiamo un mare bellissimo quindi io penso al turismo che noi faremo all'interno della nostra Sicilia quindi per darti diciamo una risposta alle domande più tipiche sono queste ristorazione e turismo però abbiamo presentato domande veramente per qualunque tipo di tipologia da come si chiama centro di assistenza tecnica per i cellulari a una casa cinematografica di post produzione cinematografica a ad esempio gastronomia da sporto a guarda veramente uno stilista di moda a un parco urbano per eventi a vari ristoranti ovviamente insomma abbiamo fatto veramente di tutto e di più proprio perché il bando ti dà questa possibilità un dispiacere è quello per esempio che potrebbe essere sfruttato per ora quello di utilizzare e ci è riuscito in pochi progetti abbiamo avuto pochi clienti su questo su questa tipologia di progetti progetti totalmente digitali quindi è possibile anche con Resto al Sud farsi finanziare l'implementazione ad esempio di una piattaforma delle tecnologie dell'informazione della comunicazione che possa essere che possa far parte appunto di una voce di spesa che può essere finanziata poi magari scendiamo nel dettaglio ma questa sempre azienda che nasce per stare questo servizio non aziende che già esistenti che possono implementare giusto? Allora se l'azienda è stata aperta dopo il 21 giugno 2017 può presentare una domanda 21 giugno 2017 può presentare una domanda ovviamente deve acquistare solo prodotti nuovi quindi beni strumentali nuovi quindi questo cosa vuol dire che se il business plan prevede ad esempio un servizio che viene fatto a metà tra attrezzature vecchie attrezzature nuove il progetto è inammissibile tutte le attività che devono essere fatte in quel progetto devono essere fatte con i beni strumentali che devono essere acquistati in quel progetto quindi la completezza del progetto è un altro degli elementi essenziali nel senso che il progetto prevede tu non puoi dire con la mia impresa io farò questa attività ho già un computer ho già una scrivania no 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 se il computer è essenziale per la produzione per l'erogazione del servizio il computer deve essere acquistato e deve essere inserito nel programma di spesa e deve essere nuovo quindi diciamo da questo punto di vista per le imprese già costituite sarebbe una vera e propria rivoluzione è chiaro che diciamo le attrezzature esistenti non si buttano si possono non si buttano ma non si possono utilizzare ai fini della consistenza del progetto della completezza del progetto possono continuare a fare altro possono fare altro possono fare anche la stessa cosa l'importante è che il progetto presentato il valutatore possa valutare che l'attrezzatura acquistata è sufficiente ad erogare quel determinato prodotto e servizio se poi ho a disposizione e non ne parlo del progetto altra attrezzatura benvenga l'utilizzo di quell'attrezzatura ma sicuramente non posso presentare un progetto monco in cui dico si vabbè l'altra attrezzatura la trovo me la faccio prestarcelo cosa si finanzia qua c'è un'altra bellissima molto importante praticamente finanzia tutto tranne anche in questo caso devo dire la verità finanzia le opere di ristrutturazione quindi puoi ristrutturare la tua sede operativa fino al 30% del totale quindi se facciamo un esempio con una torta da 100 come se avessimo due soci intanto puoi chiedere fino a 50.000 euro a socio quindi 4 soci fino a 200.000 euro quindi 4 soci 200.000 euro 5 soci 200.000 euro 6 soci 200.000 euro i soci che non hanno i requisiti non concorrono quindi 3 soci di cui 2 con i requisiti e uno senza i requisiti 100.000 euro 150.000 euro quindi diciamo intanto questa è la regola 50.000 euro massimo a persona puoi finanziare ristrutturazione massimo il 30% e questo è molto importante nel senso che hai una sede operativa la puoi ristrutturare totalmente col 30% ad esempio se siete due avete chiesto 100 massimo 30.000 euro se avete chiesto 100 poi abbiamo beni strumentali senza limiti cioè noi possiamo acquistare beni strumentali fino al 100% del finanziamento beni strumentali comprendono macchinari impianti attrezzature arredamento ma anche programmi informatici e tecnologie dell'informazione e della comunicazione quindi noi possiamo acquistare tutte queste cose senza un limite di spesa all'interno del limite di spesa di 100.000 ad esempio dopodiché abbiamo pure affitto utenze semilavorati e materie prime che invece fanno parte del capitale circolante che invece ha un limite del 20% quindi all'interno del programma di spesa noi possiamo allocare il 20% per affitto utenze materie prime e semilavorati vi faccio un esempio ho una pizzeria metto là dentro l'affitto per qualche mese le utenze per qualche mese e poi metto pure la farina che mi servirà per fare la pizza o per esempio ho un'attività artigianale metto là dentro l'affitto le utenze e poi metto ad esempio le stoffe o metto il legno ok i semilavorati quindi io là dentro posso mettere il capitale circolante quindi anche questa voce è molto importante quindi praticamente tutto quello che non si può finanziare questo è pure importante non si può finanziare non si può finanziare le consulenze esatto le consulenze non si possono finanziare le spese di costituzione dell'impresa non si possono finanziare le spese per la pubblicità ok quindi tutto quello che non ho detto prima non si può finanziare ovviamente ho detto le più importanti quindi pubblicità spese di costituzione dell'impresa consulenze quindi l'avvocato il commercialista l'architetto non si possono pagare con questi soldi il 35% di questi soldi sono domanda agevolazioni agevolazioni veramente importanti nel senso che noi abbiamo il 35% a fondo perduto che vuol dire in termini diciamo semplici regalato quindi più IVA o compreso IVA questa spesa allora l'IVA è una spesa non ammissibile quindi ovviamente l'IVA deve essere messa dall'imprenditore quindi quello che loro ti finanziano è una IVA esclusa detto questo ovviamente l'IVA è una partita di giro nel senso che ci pagherai delle tasse su quest'IVA che ti scaricherai con le spese che hai fatto di IVA dico quindi tutto sommato è una spesa inammissibile è una spesa grossa che va ovviamente ponderata dall'imprenditore ma l'imprenditore sa che comunque l'IVA è una tassa che si paga su quello che tu produci quindi quando tu la paghi vai a scaricare quella che tu hai pagato sui beni strumentali inoltre se sei una ditta individuale e sei sotto il regime dei minimi quindi non te la puoi scaricare puoi anche fartela finanziare ma questo è un dettaglio un po' più specifico che poi eventualmente si approfondisce in un'altra sede contributo a fondo perduto 35% molto importante 35% è regalato il 65% invece è prestato a tasso zero coi primi due anni di preammortamento vuol dire che i primi due anni non gli dai un euro di rata a partire dal terzo anno paghi rate semestrali in base a quello che hai chiesto solo del 65% semestrali come? semestrali sì sì tutte le banche applicano la rata semestrale quindi per farti un esempio 100.000 euro vuol dire che tu restituisci 10.000 euro all'anno se chiedi 100.000 euro devi restituire 10.000 euro all'anno per sei anni a partire dal terzo anno se chiedi 50.000 euro 5.000 euro all'anno il 35% è regalato già ce l'hai in tasca quindi su 100.000 il 65% di 100.000 euro esatto vuol dire in sei anni vuol dire 10.500 euro ah perfetto esatto è molto importante il preammortamento e poi un'altra cosa importante è che scusami gli otto anni è i due che non paghi più sei giusto? sì esatto sono due più otto no 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 sono due più sei e un'altra cosa importante è la garanzia nel senso che quando ti fanno un prestito tu ovviamente dico lo Stato lo rivuole indietro ovviamente questo vuol dire ma se tu non glielo puoi ridare indietro che cosa succede? allora lo Stato garantisce l'80% di questo prestito quindi ti hanno prestato 65.000 euro lo Stato l'80% te l'ha garantito lui quindi se non riesci a ridargli glielo ridà lo Stato il 20% del prestito cioè del 65% invece purtroppo lo devi garantire tu è l'unico rischio che ti chiede diciamo questa misura il 20% del 65% oltre ovviamente alle spese non ammissibili che dovrai comunque affrontare quindi comunque è un è fatto bene ecco diciamo che è molto conveniente è molto conveniente nel senso che io chiaramente non sono preparato nel settore negli anni mi ci sono avvicinato un paio di volte ma ti devo dire che poi ci ho pensato su e ho preferito fare da solo guarda il primo problema in passato era che mancava il preammortamento nel senso i primi due anni già dovevi incominciare a pagare dopo sei mesi quindi praticamente neanche il tempo di aprire diciamo neanche il tempo di aprire già dovevi pagare il mutuo quindi molte imprese non ce la facevano invece dare due anni di avviamento sicuramente è un boost importante Fabio aspetta che prima facciamo finire l'argomento la valutazione l'abbiamo parlato i criteri bene o male è molto importante sulla valutazione sapere che qua non stanno cercando imprenditori to cure che mettono i piccioli e vogliono fare i piccioli stanno cercando autoimprenditori stanno cercando persone che con il loro talento con le loro esperienze possono mettersi a disposizione del progetto quindi soci di capitali che mettono solo soldi e vogliono vedere soldi e che non hanno un ruolo all'interno dell'impresa non sono ben graditi invece una persona che conosce il mestiere e vuole diventare l'imprenditore di se stesso quello è l'imprenditore che loro stanno cercando quindi è molto importante sapere che se non hai esperienza nel settore non presentare una domanda perché te la bocciano esatto quindi è importante dico chiaro che questo è il vostro ruolo quello di imbastire chiaramente una pratica che abbia i requisiti giusti per per riuscire appunto ad avere questo finanziamento pure vero è che ci vuole comunque penso questo è il compito soprattutto vostro quello di spiegare o dare dei consigli per quanto riguarda l'investimento cioè nel senso la fattibilità deve avere anche una una percentuale bassa di rischio che non riesca giusto allora ti dico questo siccome noi abbiamo la fortuna di avere tantissimi clienti facciamo un'ampia selezione nel senso che noi non accettiamo i clienti che noi pensiamo che non possono superare non possono superare la valutazione ma soprattutto come contenuto di progetto ovviamente noi facciamo uno screening noi facciamo uno screening per capire se il progetto dico ha una validità in termini imprenditoriali detto questo poi noi dobbiamo vedere anche le caratteristiche dell'imprenditore cioè un imprenditore che ha difficoltà ad esprimersi in italiano un imprenditore che non comprende quelli che sono i minimi voglio dire rudimenti di come funziona un'impresa e che non è disponibile a imparare non può superare un colloquio quindi è inutile che presenti il progetto e noi non glielo presentiamo anche perché noi assicuriamo e nel senso noi garantiamo l'approvazione nel senso che l'ultima tranche del nostro pagamento non viene fatta della nostra consulenza fino a quando il progetto non è approvato siccome c'è la possibilità di presentarlo infinite volte fino a quando non viene approvato noi lo ripresentiamo fino a quando l'imprenditore non riesce a superare il colloquio è ovvio quindi che a noi non interessa diciamo accettare clienti che ci mettono in difficoltà che non riescano dopo diverse volte a superare il colloquio come viene erogato abbiamo parlato chiaramente diciamo che hai spiegato in poco tempo in mezz'ora 20 minuti un po' quello che magari tantissime persone non sanno perché secondo me su queste misure non c'è una super comunicazione nel senso che tendenzialmente secondo me lo Stato con malizia cerca di dirlo e non dirlo sto sbagliando sono troppo malizioso ma ti devo dire la verità che in realtà Invitalia investe molto in comunicazione il problema è che io ho partecipato a qualche iniziativa di Invitalia il discorso è che loro tendono a fare delle iniziative molto istituzionali in cui c'è un capo di Invitalia che spiega quello che già tu puoi trovare nel sito di Invitalia quindi sono informazioni diciamo molto istituzionali invece quello che io posso dare ovviamente perché io sto da questa parte sono dalla parte dell'imprenditore sono delle informazioni molto più pratiche quindi è ovvio che Invitalia non può darti delle informazioni pratiche su come voglio dire riuscire a presentare una domanda ti deve dare delle informazioni che riguardano molto asettiche ok e quindi queste queste iniziative non sono molto partecipate non sono molto partecipate esatto poi chiaramente lascia a voi consulenti o comunque che vi specializzate perché voi Federico si fare l'avvocato ma ti devi specializzare per conoscere tutte le virgole appunto di questa misura in questo caso che è l'esperienza sicuramente è certo Fabio continuiamo abbiamo non tantissimo perché poi c'è un'altra trasmissione spero di farne una in studio vis-à-vis che è più bello è vero Federico che io questa diciamo la tecnologia l'ho scoperta prima della pandemia infatti un'altra volta mi veniva da ridere perché quattro anni fa tutti mi criticavano tutti tutti pure persone importanti in certe redazioni anche nazionali ma che devi fare con questa web tv che devi fare con le dirette su facebook adesso sono tutti su facebook infatti ho scritto un post tutti a criticare ora dormite in diretta si fanno la diretta mentre dormono quindi siamo arrivati proprio a non plusulta che pandemia a parte già stava prendendo il suo il suo percorso poi chiaramente con la pandemia mi sembra quasi super naturale che ci sia ci sono anche nati dieci piattaforme in un giorno che ti danno la possibilità gratuitamente di fare videoconferenze io un po' ci scherzo perché poi alla fine sai questi sono dei fuochi di paglia che poi si bruciano però comunque vuoi o non vuoi tutti i sindaci ti faccio un esempio bene o male fanno una diretta al giorno per comunicare con la propria cittadinanza di quello che sta succedendo 5 anni fa 3 anni fa 2 anni l'anno scorso non ci pensavano minimamente ogni giorno a fare una diretta su internet quindi comunque 4.0 dobbiamo chiamare il resto al sud 4.0 a questo punto visto che ci stiamo correndo dietro la tecnologia fabbio aggregazione 2.0 quando ripartirà non lo sappiamo soprattutto i 4 sono 4 i paesi giusto? 3 3 i 3 paesi alla fine che cosa che cosa riusciranno a fare i ragazzi di questi paesi? allora al di là dei laboratori che vertono appunto come dicevamo anche su sport benessere psicofisico per l'amor del cielo argomenti meravigliosi e sicuramente importanti noi all'interno di questo progetto stiamo puntando molto sull'inserimento lavorativo di questi ragazzi dico nella fattispecie autoimprenditorialità ma di questo resta al sud sicuramente uno dei bandi che si presta meglio per questo e quindi divulgheremo aiuteremo i ragazzi a sviluppare questi progetti a sviluppare le loro idee di autoimprenditorialità partendo sicuramente dalla da un business plan perché devono avere devono intanto conoscere ciò che devono andare a sviluppare sapere come andarlo a sviluppare in questo sicuramente saranno aiutati anche da Federico sarà parte integrante del progetto soprattutto per quel che riguarda il resto al sud in più puntiamo moltissimo per me pane quotidiano sull'inserimento nel mondo del lavoro tramite tirocini qui mi voglio ricollegare perché comunque è un argomento importante è molto molto attuale posso dire la mia io sono pro queste cose e sono contrarissimo per tutta la vita a tutto quello che si chiama assistenzialismo cioè per me da imprenditore e persona della strada non da tecnico come sei tu e chiaramente e come lo è pure Federico e ti dico che certe volte ho difficoltà a trovare persone perché quando tu inculchi a una persona a non fare niente e a ricevere 600 euro tu mi puoi spiegare come io posso cercare una persona che deve lavorare deve imparare un mestiere con 600 euro non verrà mai è un problema di cultura però siamo noi loro io no che creiamo questa questo leitmotiv o cultura che negli ultimi 10 20 anni ha creato l'assistenzialismo quindi benvengano questo tipo di misure che quantomeno ti insegnano a lavorare perché poi chiaramente spieghi tu ora nel dettaglio come funziona se tu ti dico non deve fare le fotocopie ecco questo ti voglio dire vabbè però c'è anche da dire che c'è tanta gente che il sistema produttivo non potrà assorbire tutti forse abbiamo un po' esagerato a estendere certe misure alla popolazione senza essere troppo selettivi però c'è tanta gente che il lavoro non riuscirà a trovarlo perché perché il mercato in questo momento è in crisi perché non hanno specializzazioni perché non hanno né arte né parte perché sono già troppo grandi e quindi non possono essere assorbiti probabilmente per questi secondo me diciamo è giusto che ci sia una forma diciamo di assistenzialismo è ovvio però che non bisogna essere troppo di manica larga non bisogna aprire troppo le maglie perché sennò poi c'è una distorsione come quella che dici tu cioè che la gente è sicuramente a questo punto per però questa cosa di 600 euro questa cosa di 600 euro che è inferiore a quella che era diciamo quello che è stato dato come reddito di cittadinanza sicuramente è un punto a favore di questa tua tesi a me non sono arrivate le 600 euro dico ancora no ancora no ancora no non mi ha fotto niente scusami se mi arrivano o meno perché chiaramente non mi combiano la vita però è pure vero che se da tutti è venuto questa lamentela che è diventato il colmo che chi non fa niente e in teoria aspetta in questo momento potrebbero anche essere annullati i reddito di cittadinanza visto e considerato che chi ma lo sai ma sai ma sai il reddito di cittadinanza il reddito di cittadinanza forse dico sicuramente come ti dicevo è un po' uno spreco su certe categorie ma ti dirò quota 100 che costa tanto quanto il reddito di cittadinanza ha un impatto molto molto minore nella cittadinanza non vale niente per fare andare 175 mila persone in pensione prima prima due anni tre anni quindi per fare andare 175 mila persone in pensione prima di due anni tre anni abbiamo speso nove miliardi cioè spiegami tu se questa invece è una spesa cioè onestamente a me le persone che non riescono a sbarcare il lunario mi fanno più simpatia di quelli che per andare in pensione due anni prima mi fanno spendere nove miliardi scusami tanto se proprio dobbiamo tagliare se proprio dobbiamo tagliare diciamo che anche lì io abbiamo fatto un conto un po' alla femminina se avessero se si fossero tolti due mesi di stipendio quasi mille tra parlamentari deputati ministri questori tutto quello che gira là facciamo un conto magari le mascherine le avremmo potute comprare o comunque magari queste 600 euro a me sarebbero arrivate come altre 58% ma non sono questi conti non sono questi conti lo so però è vero che tutti fanno i come si chiama i programmi pubblici sicuro entro venerdì c'è un ministro che mi dice sicuro entro venerdì e siamo a martedì ancora non è arrivato niente a me sono arrivati a me sono arrivati a me sono arrivati sono raccomandati vabbè tu sei con la n io valenti qualche altro giorno dici ah di potrebbe essere una questione alfabetica sì potrebbe essere dovrebbe essere vedremo ci scherziamo su noi che magari siamo persone normali però ti devo dire Federico magari io ti faccio la polemica con la battuta ma c'è chi ha un altro tipo di tessuto sociale ti assicuro che i problemi ancora devono arrivare perché vabbè chi c'ha reddito di cittadinanza c'ha reddito di cittadinanza però scusa potevano anche bloccare le reddito di cittadinanza in questo momento ma no ma perché sarebbe stato sarebbe stato clamoroso sarebbe stato le persone più deboli anche le persone più deboli non solo le persone più deboli ma anche le persone più deboli avrebbero avuto proprio loro semmai tu hai fatto questa battuta sui dipendenti pubblici non solo i politici immagini che il dipendente pubblico non rischia che la sua impresa fallisca perché l'italia ha uno stipendio fisso e probabilmente ha lavorato anche meno in questo periodo di perché non chiedere lavorano di più da casa vabbè ok lavorano di più da casa però dico hanno avuto meno spese comunque per andare sul posto di lavoro eccetera eccetera ci sono pure dei bonus per eventualmente baby sitter perché non chiedere un contributo di solidarietà non ai politici a tutti i dipendenti pubblici sopra una ovviamente sopra una certa soglia che non hanno carichi familiari perché non chiedere un contributo a tutti i dipendenti noi politici solo sai quanta gente c'è che lavora nella burocrazia che ha molti meno impegni di un politico che magari vero in questo momento si sta mettendo a disposizione del territorio chiedere veramente a tutti i dipendenti pubblici ma anche 100 euro l'uno 100 euro l'uno per i mesi di marzo e aprile ti faccio vedere che se ti fai i conti qualche cosa esce oggi mi è arrivato un messaggio che giusto mi ha fatto venire i brividi un mio amico chiaramente non faccio il nome di lunga data mi ha mandato un messaggio e mi ha chiesto tenetevi forte 20-30 euro di bonifico che sta chiedendo a tanti amici per mangiare però c'è c'è il bonus spesa dico si potrebbe rivolgere non è di Palermo vabbè ma comunque in tutti i comuni c'è in tutti i comuni dico io leggo sto messaggio vedi che un pochettino sono sto preso alla botta ti dico la verità perché comunque non mi aspetto magari non conosco non conosco non vivo i testi sociali quelli proprio meno ambienti per carità però non me l'aspettavo ecco mi ha un po' segnato questa cosa è chiaro che io le 50 euro le farò perché è una questione personale però mi ha fatto pensare tanto ma tanto non è chiaramente argomento però è uscito questa è inevitabile diciamo comunque ti appoggi in pieno sul discorso legato all'assistenzialismo infatti dovrebbero essere incentivate maggiormente le politiche attive sul lavoro nella fattispecie parlavamo poc'anzi dei tirocini soprattutto per i giovani perché in qualche modo spiega i tirocini perché poi dobbiamo chiudere perché faremo un'altra puntata chiaramente molto esaustivo in quello insomma allora i tirocini fondamentalmente bisogna identificare io voglio identificare oggi tre tipologie di tirocini i tirocini che vertono su un'esperienza lavorativa fino a se stessa un'esperienza di tirocino fino a se stessa tirocini che invece vertono poi su una effettiva assunzione nell'azienda diciamo che sui primi io sono assolutamente contrario il tirocino è un momento di formazione formazione per se stesso e per l'azienda formazione per se stesso bisogna pensare al tirocino come un periodo che poi ti possa portare realmente un'assunzione a tempo determinato e indeterminato nell'azienda bisogna pensare al tirocino come un momento in cui invece ti formi fai frutto dell'esperienza acquisita in quell'azienda e perché no magari poi decidi di avviare un'attività imprenditoriale quindi sfruttare un fondo sfruttare il resto al sud magari fai un'esperienza in un determinato settore acquisisce esperienza fa punteggio per il resto al sud una cosa che voglio soprattutto dire in questo momento dai problemi dalle problematiche nascono soluzioni al momento i centri per l'impiego sono chiusi per poter svolgere un tirocino soprattutto per quel che riguarda le misure di garanzia giovani che sono in fase di avvio alcuna in particolare è già avviata il progetto il progetto crescere in digitale per poterlo attivare bisogna mandare al centro per l'impiego per mesi purtroppo non per demeriti dei operatori dei centri per l'impiego sia chiaro che sono sicuramente stracolmi di lavoro visto tutte le varie politiche rei reddito di cittadinanza e vi discorrendo in questi giorni in questo mese di pandemia è possibile concludere determinate operazioni finalmente fortunatamente da casa quindi si sfruttano i sistemi nella fattispecie il portale ANPAL per poter fare una procedura patto di servizio che invece andava fatto al centro per l'impiego con tutte le problematiche legate al caso legate cioè non era facile riuscire a calendarizzare l'alto positivo della pandemia scusa l'alto positivo della pandemia ecco sicuramente bisogna sempre essere ottimisti in tal senso quello che mi sento di dirti è che comunque eventuali ragazzi che stanno ascoltando questo se hanno dei dubbi a riguardo possono tranquillamente inviare una mail alla nostra associazione possiamo dare consulenza al riguardo e indirizzarli anche su come bisogna fare questa procedura e quindi eccolo as.gionicuro la scriviamo pure tra i commenti la scriviamo pure tra i commenti di questo live assolutamente questa intanto è l'associazione dove sei tu presidente e facciamo vedere appunto anche perché su facebook diciamo ormai basta scrivere giovane futuro esatto tra l'altro la cosa fantastica secondo me di facebook è che comunque per chi lo usa e lavora per chi deve cazzeggiare no o che si deve nascondere dietro i gatti comunque avvocato tu ne sarai penso d'accordo con me comunque è la nostra carta identità digitale eh sì eh sì però mi dispiace oggi poi su facebook poi magari fai altro ma oggi la prima cosa che fai dico anche mentre nel tuo lavoro qualsiasi sia la pratica d'avvocato che può essere separazione che può essere recupero crediti comunque tu la persona l'azienda la cerchi su facebook sì sì no ma sicuramente il mondo è cambiato negli ultimi anni è tutto un altro mondo e chi oggi non riesce a utilizzare questi strumenti purtroppo è l'analfabeta dei nostri giorni e quindi io invito davvero tutti senza esagerare ovviamente perché poi ci sono pure patologie c'è gente che non ne può più è stata tutto il giorno appiccicata al cellulare a guardare i feed però c'è anche da dire che oggi non sapere utilizzare queste tecnologie immaginate tutti quei genitori o nonni che hanno utilizzato per la prima volta whatsapp per parlare con i poti e con i figli immaginate tutte queste persone che comunque trovano un poco di contatto guardando la bacheca e contattando gli amici su facebook e poi noi lo utilizziamo come lavoro io comunque facebook lo utilizzo davvero sono un contribuente abbastanza abbastanza consistente ma anche una pandemia 15 anni fa 20 anni fa eri rovinato più triste per i parenti che magari o i familiari mentre oggi ma pensa poi tutto a costo zero pensa tutto a costo zero esatto io chiamo la sera mio figlio che è con sua madre perché sono divorziato e mia madre che è un'altra casa e cerchiamo c'è come se stessimo insieme quindi dico alla fine anche se davanti a un telefonino comunque non siamo lontani perché poi la pandemia in questo caso sta creando questa ma lo sai è stato dimostrato a quanto pare questa è l'ultima cosa che dico dai poi chiudiamo se vuoi è stato dimostrato che tramite tramite questa pandemia è stato dimostrato che moltissimi dei nostri spostamenti sono totalmente inutili cioè pensa a tutte quelle persone che per fare affari andavano da un continente all'altro e che invece oggi hanno detto ma perché non fare una semplice videochiamata o la formazione a distanza certo non è la stessa cosa ma tante altre cose sono state capite durante questa pandemia anche lo smart working sicuramente molte imprese domani probabilmente si convertiranno parzialmente allo smart working quindi comunque sono le opportunità che vengono ovviamente dalle tragedie va bene ragazzi i dati i vostri dati diciamo i contatti le mail i numeri di telefono quello che volete li inseriamo nei commenti chiaramente spero di fare un bel po' di condivisione perché comunque l'argomento è utile secondo me a tanti spero che con questo tipo di speciale di informazione che siamo riusciti a dare con il vostro splendido contributo magari riusciremo a creare involontanamente un'altra impresa e magari prima passando dal tirocino e poi dal resto al sud io ve lo dico oggi ho imparato qualcosa sicuramente di più rispetto a ieri grazie appunto all'aspirazione di Federico ci vediamo dal vivo ci vediamo dal vivo sì dal vivo sicuro grazie Federico grazie 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 Fabio se vi interessa magari a farvi un po' di più a seguire ci sarà la diretta di futsal time con il buon compaesano di Fabio tu sei di Palermo Federico sì sì io sono di Palermo quindi loro sono paesani mi permetti un saluto mi permetti un saluto giusto assoluto ti manca il campo e come manca il campo ma quando giocheremo ma quando giocheremo non come non rientrerà questa per le partite di calcetto dice che dobbiamo aspettare dopo giugno dopo luglio io non lo so come dobbiamo fare ma invece di giocare 5 contro 5 giochiamo 3 contro 3 così è distanza guarda io potremmo aprire da piccoli si giocava non so se voi ci avete mai giocato agli 11 alla tedesca avete mai organizzato queste giocate ma lo stesso dice che forse fanno forse faranno un'eccezione per padel e tennis no padel e tennis se non sbaglio possono ricominciare e poi allora io dal punto di vista lavorativo ti devo dire che so che la palla a nuoto riprenderà e io seguo il telemar della serie A e quindi sono anche felice di riprendere a fare dirette per il telemar il basket si è fermato andavamo in serie B lanciatissimi dove Giuseppe Caronna sempre monrealese stava facendo un campionato pazzesco palla a volo Iden quindi aspettiamo fine aprile e 3 maggio per capire grazie ragazzi va bene grazie ciao e buona giornata grazie phil rose tv la tua web tv grazie a tutti